Ciao ragazzi e ben ritrovati in questa nuova puntata di Deals of the Week che torna in grande spolvero per parlarvi delle offerte più interessanti della settimana sui prodotti Apple e sugli accessori per i prodotti Apple in realtà prodotti Apple in sconto non ce ne sono ed è difficile trovarli lo sapete ma ci sono belli accessori, molto interessanti, alcune novità mai viste in Deals of the Week non perdiamo tempo e iniziamo subito Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Deals of the Week la rubrica delle offerte e degli sconti di iPhoneItalia.com non perdiamo tempo quindi partiamo con la prima offerta si tratta di uno sconto del 10% sul Tractive localizzatore GPS per animali ed altro che passa da 99,90€ a 89,90€ l'abbiamo anche recensito questo prodotto su iPhoneItalia.com appunto trovate la nostra recensione offerta anche sul TP-Link Arker D2 modem router wireless che passa da 89,99€ a 67,98€ con spedizione gratuita con uno sconto che si aggira intorno al 40% rispetto al prezzo finale ottimo router wireless con ben tre antenne e con una potenza importante un po' ingombrante però se cercate un apparecchio affidabile che vi consente di avere un ottimo segnale in tutta la casa questo qui fa per voi cavetti Lightning lo sapete servono sempre Oki cavetto Lightning certificato Apple per iPhone 5, 5S, 5C, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus e tutti gli altri prodotti che supportano il Lightning identico nell'estetica quello di Apple viene venduto da Oki ora ad uno sconto che si aggira intorno al 70% rispetto al prezzo finale e che passa appunto il prezzo finale da 34,99€ a 12,58€ con spedizione gratuita da EasyHack troviamo anche il mini altoparlante bluetooth portatile che sembra un obiettivo per una fotocamera che passa da 49,99€ a 24,99€ con spedizione gratuita e uno sconto circa del 50% sul prezzo finale speaker che supporta chiaramente anche le chiamate, airplay, possibilità di cambiare brano in riproduzione insomma un ottimo speaker bluetooth per il vostro iPhone e chiaramente non solo magari anche per un Apple Watch potrebbe essere un'ottima idea per sentire la musica chiaramente o all'aperto o comunque senza le cuffiette senza ricorrere allo speaker dei dispositivi con una buona qualità da TaoTronics troviamo in offerta le cuffie stereo in-ear bluetooth con microfono incorporato cuffie sportive dal design anche carino che passano da 59,99€ a 28,99€ con uno sconto con spedizione gratuita tra l'altro con uno sconto pari al 60% rispetto al prezzo finale cuffie che hanno il microfono in line quindi per controllare la riproduzione e per rispondere al telefono ma hanno anche le ottime plastiche per il padiglione delle nostre orecchie che ci consentono di fissare ancora al meglio queste cuffie in-ear magari durante l'attività fisica da Equinux abbiamo l'Equinux Teezy Beat Bag che sembra veramente effettivamente una borsa un'altoparlante bluetooth mobile con maniglia e con batteria sostituibile che passa da 99,99€ a 79,99€ con spedizione gratuita e con uno sconto insomma importante per un dispositivo non solo potente sicuramente ma anche molto carino nell'estetica particolare che magari può essere un ottimo regalo di Natale in ritardo siamo arrivati alle ultime offerte di oggi parliamo del Rav Power caricatore USB da muro a tre porte che passa da 29,99€ a 12,49€ con uno sconto di circa il 50% ottimo prodotto se volete ricaricare fino a tre dispositivi tramite porta USB collegando appunto l'alimentatore ad un'unica porta elettrica dopo parecchio tempo torna in offerta anche l'U2 TripMate Titan router wireless da viaggio che passa da 98,99€ a 47,99€ con spedizione gratuita ed uno sconto sul prezzo finale di circa il 60% se avete una scheda, se avete un cavo di rete e volete condividere tramite wifi la connessione internet, beh anche in viaggio questo prodotto può essere un valido sostituto insomma di un vero e proprio router da portarvi dietro grazie insomma al suo design compatto e alle caratteristiche che mette a disposizione degli utenti da Trust abbiamo infine l'ultima offerta di oggi una stylus per dispositivi touchscreen stylus semplicissima anche nel design, nell'estetica che passa da 14,99€ a 4,99€ con uno sconto sul prezzo finale del 73% bene ragazzi quindi queste erano le offerte di oggi di Deals of the Week come al solito trovate in descrizione il link per l'acquisto di questi prodotti non perdete tempo perché le offerte sono limitate e tra l'altro qualcuno mi chiede spesso Andrea ma come mai rispetto a quello che hai scritto tu il prezzo è cambiato di 2-3€ perché le offerte su Amazon, i prezzi in generale su Amazon soprattutto per questi prodotti dal valore non esagerato sono assolutamente fluttuanti quindi nell'arco di una stessa giornata ci possono essere variazioni di prezzo di 2-3-4-5-10€ quindi per me capite bene che è impossibile darvi l'esatto prezzo che vedrete al momento del vostro eventuale acquisto per questo vi dico recatevi subito in descrizione guardate che prezzo c'è dovrebbe essere comunque vicino a quello che vi ho detto io al massimo c'è una differenza di pochi euro e acquistatelo subito perché l'offerta poi termina veramente nel giro di poche ore quindi se siete interessati ragazzi andate in descrizione ci sono i link, acquistate e fatevi spedire quanto prima il prodotto a casa noi ci rivediamo settimana prossima con nuove offerte di Deals of the Week e domani già con Q&A Sunday giovedì con Hot News ciao a tutti da Andrea Cervone per iPhoneItalia.com ciao a tutti